Iniziare bene malgrado le difficoltà. Il campionato del Gela parte dal derby con l'Igia Virtus e con tante incognite. La società ha fatto il suo dovere costruendo una grande rosa con calciatori forti in ogni reparto e alternative per Zeman interessanti anche tra gli under. Partire con il piede giusto è fondamentale. Il tecnico palermitano non potrà contare su tre componenti del suo organico. Il centrocampista Burato, il difensore Mengoli e l'attaccante Montalbano. Alma e Soe hanno recuperato ma con tutta probabilità partiranno dalla panchina. Intanto il DS Martello ha messo a segno un doppio colpo di mercato. Il Gela ha piazzato due acquisti proprio alla vigilia del derby con l'Igea. In arrivo un difensore e un centrocampista. Francesco Mileto, 23 anni, difensore centrale napoletano e il tassello che mancava per completare il pacchetto arretrato. Benché giovane ha già sulle spalle tre anni di professionismo tra Acragas, Messina e Juve Stabia. A centrocampo il rinforzo sarà Urtago Zuniga, colombiano che lo scorso anno giocava nella Serie B portoghese. Pare che in questa trattativa abbia influito il papà di Karel Zeman, ovvero Zednek, che lo ha avuto a Pescara alcuni anni fa. Intanto il torneo di Serie D rimarrà a 18 squadre. Ieri sera la Palmesa ha evitato l'onta del fallimento. Grazie alle somme raccolte il club neroverde, curato da un amministratore giudiziario, riuscirà quindi ad onorare l'impegno in programma domani all'Opresti contro il neopromosso Città di Messina. Tornando alla Gela, ecco il probabile 4-3-3 di Zeman. Castaldo in porta, difesa con Caruso, Brugaletta, Sicignano e Cuzzilla. Centrocampo con Lavardera o Federico, Schisciano e Mannoni. Attacco con Diem, Ragosta e Bonanno. Calcio d'inizio alle 15.